Ci aspettiamo di un radicamento superiore, ci aspettiamo nuove iniziative e soprattutto di parlare a quel pezzo di paese presente nel nord-ovest che ha voglia di fare, di innovazione, di crescita e che per trovare nella nostra economia, nel nostro supplemento settimanale un modo per raccontare bene queste storie positive.